Buonasera, sono le 16.54 di venerdì 8 novembre e dato che domani non ci saranno le live perché terrò il corso, essendo già venerdì la cravatta è già stata buttata via, mi devo però portare avanti con le analisi altrimenti rischio di rimanere indietro sui vari indici, mercati e commodity in questo caso perché parleremo appunto di oro utilizzando l'analisi ciclica Evoluta di cui puoi avere tutte le informazioni andando direttamente sul sito analiseevoluta.com e cliccando su voglio ricevere la guida gratuita. Sai che sei sul primo canale in Italia con oltre 17.400 iscritti e oltre 3.600 video di storico in cui puoi andare a verificare se sono un analista quantitativo dei mercati valido oppure no e fare le tue scelte di conseguenza. Su oro dove siamo arrivati? Finalmente e lo dico con tanta gioia abbiamo iniziato a fare uno storno serio, siamo saliti in extra time rispetto ai normali movimenti, siamo riusciti anche a perdere oltre il 5% tra questo massimo e qua e abbiamo iniziato ad avvicinarci parecchio a quello che è il punto J. Quello in cui ti raccontavo già giorni fa che è fondamentale perché ci dice che si potrebbe se poi confermato anche da volumi e da tempo, tempo sotto questo massimo finalmente interrompere una salita che è durata da quando tra l'altro te l'avevo confermato puoi andare a controllare a partire da marzo se non mi ricordo male quando ha fatto prima questa salita mostruosa poi ha continuato a salire a onde e quindi a cicli. Ed è arrivata oltre il tempo di un annuale d'inverso, oltre il tempo massimo perché ci ha fatto andare su per tutto questo tempo qua, oltre i 336 giorni che trovi della tabella ciclica. Adesso cosa facciamo? Prima di tutto notiamo che siamo andati a rimbalzare proprio sulla media mobile che utilizzo, siamo andati a finire proprio a sbattere contro il canale questo è ascendente che utilizzo e ci siamo fermati lì, ci siamo avvicinati moltissimo a questa che è la prima resistenza volumetrica che ti suggerisco di andare a settarti. E peraltro qui abbiamo un altro supporto volumetrico che è estremamente importante e che di nuovo ti suggerisco di segnarti. Qui abbiamo fatto un top a un doppio massimo a 2801 e 8, 2802 comunque qua, che era a esattamente sul livello volumetrico che ti avevo dato. Ok? Questa resistenza. In questo modo quindi che cosa stiamo facendo? Non stiamo dicendo che se non sale non scende, stiamo dicendo già alcune cose. Prima di tutto abbiamo già 6 giorni sotto un massimo e quindi abbiamo la possibilità che da qui parta non soltanto un ciclo settimanale ma anche un ciclo mensile. Esatto. Seconda cosa abbiamo iniziato ad violare dei minimi e ci stiamo avvicinando tanto a questo punto J che non esisteva nella vecchia analisi ciclica che ci dice che se continueremo, se prima lo raggiungeremo e poi continueremo a rimanerci sotto per tante candele giornaliere, invertiremo la tendenza da salire a scendere. Lo potremmo fare perché? Beh, per l'inverso non so neanche a spiegarlo. Lato indice perché che cosa ci serve? Siamo arrivati a 283 giorni di ciclo annuale profondamente proiettato a rialzo. 203 giorni sono appunto un tempo oltre quello medio di 256 candele giornaliere. E' vero che abbiamo tempo fino alla 336esima per trovare una chiusura di ciclo annuale, però ecco. E tra l'altro ci siamo avvicinati tanto con la candela rossa questa di mercoledì 6. Guarda caso giornata in cui abbiamo avuto le risponsi delle lezioni e poi abbiamo provato a risalire ma stiamo facendo fatica perché oggi di nuovo la candela è rossa. Quindi che cosa possiamo dire? Primo che appunto da qui può partire un mensile inverso, un mensile inverso parte spingendo. Come è stato fatto questo mensile inverso? Possiamo aver avuto appunto 6 barre più questa candela può iniziare un secondo ciclo settimanale inverso. Il primo è quello che ci ha spinto fino a qua, il secondo ci può spingere di nuovo a scendere. E lato indice la cosa funziona? Caspita se funziona. Prima di tutto, confermato tutto quello che ti raccontavo, che da qui può essere iniziato un ciclo mensile che per chiudere ha bisogno di andare dopo le 24 barre a fare un ciclo settimanale vincolato ribasso. Ma qui non è soltanto in ballo la chiusura di un ciclo settimanale e di un ciclo mensile che si fa facile, non si riesce a superare questa resistenza e si va giù a scendere. Ok? Ma è in gioco anche altro. Ok? È in gioco appunto la chiusura di un ciclo annuale. Per avere un ciclo annuale chiuso, che condizione necessaria e sufficiente sempre dobbiamo vedere sul nostro grafico? Dobbiamo avere un sottociclo di 3 gradi inferiori bassista, ossia, te lo disegno in maniera estremamente semplice, dobbiamo avere un ciclo mensile che finisce qui sotto, anche solo qui sotto. Ok? Di un punto, a pari, molto più sotto ovviamente perché se già iniziassimo a perdere la media mobile bisognerebbe vedere di riaccendere l'ICMOC e vedere dove passa per avere altre informazioni relativamente ad altri supporti e target raggiungibili. E quindi l'aspettativa può essere direttamente questa, cioè non riuscire a superare questa resistenza di cui ti ho parlato, tornare a scendere sotto questo minimo, vincolarci o ribasso ed andare giù, per tutta la durata tra l'altro del ciclo mensile, oppure che cosa? Rimanere ancora lunedì un altro giorno sopra questo minimo, avere la possibilità che da qui parta persino un bisettimanale, ok? Avere un tentativo di spinta un po' più forte verso l'alto, però fallire anche in quel caso, tornare sotto questo minimo è andare finalmente a scendere, ok? Scendere per dare un po' di fiato anche all'oro che ha tirato su tantissimo, ha fatto quanto da quando ti avevo detto che appunto avevamo un vincolo rialzista. Te lo faccio vedere perché è incredibile, ok? Questo livello, questo livello oltre il 30%, ok? Tantissimo! Quindi oltretutto tantissimo rispetto a che cosa? Rispetto all'ultima media di galleggiamento che aveva, da questo massimo a questo minimo, facciamo anche soltanto così in media, variava del 10% orientativamente in tutta questa fascia di prezzi escludendo questo eccesso. Poi abbiamo fatto più 30%. E qui, se ti ricordi bene, puoi andare a rivedere appunto l'analisi cliccando qui su oro, andando a cercare appunto all'interno del mio canale quella relativa proprio al mese di, dunque dove era finito? Qua, al mese di febbraio, febbraio marzo l'ho raccontato, in cui ho detto guarda che qui può avere una spinta rialzo, l'ha fatta di velocità ed è arrivato subito qua sopra, vincolando tutto questo t più 4, cioè minimo 96 giorni di salita. Eccoci qua, eravamo a 66, minimo 96 e vedi che poi è andata estremamente bene come cosa, per cui se vuoi controllare quello che raccontavo ce l'hai appunto sempre a disposizione sul canale. Faccio anche un'altra cosa, qui ricordiamoci che anche non ci serve soltanto chiudere un ciclo annuale, ok? Questo è il secondo ciclo annuale, ok? Quindi ricarico un attimo, così è più semplice. Amico mio, guarda qua, se io ti metto così e inizio a fare questo, poi per sicurezza qui ti metto appunto ciclo biennale, perché era da un po' che non lo aggiornavo, t più 6 e qui tra l'altro abbiamo fatto un, già che aggiorniamo, 237 più 283, il secondo sta durando parecchio di più del primo, noi sappiamo che cosa? Che dato che questo, il t più 6 è un biennale, perché dura il doppio rispetto al ciclo annuale, mettiamolo anche un po' più grosso perché ha la sua importanza, qui, ok? E noi abbiamo idea che si possa scendere di più, perché per andare a chiudere un annuale ci basta solo quello che ti dicevo, ritornare sotto questo minimo, mentre invece per andare a chiudere un biennale ci serve di più, che cosa ci serve? t più 6 è meno 3 gradi, come di consueto, t più 3 ci serve un trimestrale ribassista. E quindi che cosa ti sto dicendo in parole povere, anche se non conosci ancora l'analisi ciclica evoluta? Ti sto raccontando che se dovessimo andare a chiudere il nostro biennale proprio da adesso in avanti, grazie oltretutto all'inverso, e se la centratura fosse corretta, noi non dovremmo tornare soltanto qui sotto nelle prossime settimane e mesi, sto parlando di non domani, settimane e mesi, ma dovremmo affrettarci a ritornare almeno qui sotto, qua, per avere appunto tutto un trimestrale vincolato ribasso, quindi arrivare almeno al target di 2.502,7. Ok? Questo funzionerà se non inizieremo di nuovo a salire, non ci rimangeremo la salita, non ritorneremo sopra questi massimi, ok? Non sto a rifarti la tiritera. Se con terreno M invece inizieremo a scendere sotto questo minimo, ok? Possiamo poi continuare a scendere per arrivare anche sotto questo, a patto che ci siano volumi e a patto che appunto inizia ad esserci del tempo utile per continuare ovviamente a scendere. se invece chiuderemo non qui sotto il nostro ciclo mensile, questo sarà il primo dei due mensili che comporranno il trimestrale che ci farà andare in chiusura appunto di questo annuale. Abbiamo ancora del tempo per arrivare fino ai 336 giorni da 283? Certo! Abbiamo 17 più 36 giorni che fa 53 giorni, abbiamo quindi tranquillamente la possibilità di chiudere persino questo mensile come vuole, senza andare qui sotto, far partire un nuovo mensile che però a quel punto si vincolerebbe rapidamente dopo aver fatto la sua partenza a ribasso e ci porterebbe appunto come minimo sotto questo livello. Altrimenti se vogliamo con questo mensile chiudere tutto il nostro ciclo biennale bisogna tornare qui sotto. Ok? Mi auguro di averti dato determinate informazioni importanti e interessanti per capire bene che cosa può succedere su oro se non violeremo questo livello permanentemente, se torneremo a un certo punto da lunedì in avanti sotto questo minimo e poi sotto questo e a quel punto tutto il resto potrebbe andare come ti ho già anticipato adesso rispetto ai prossimi mesi. Perché quanto dura un ciclo trimestrale? Allora qui abbiamo detto che siamo arrivati a 26. Noi possiamo andare a portare a 43 giorni la durata del ciclo mensile e se arriviamo il 10 di dicembre qui sotto, entro il 10 di novembre qui sotto abbiamo la condizione per chiudere, sufficiente per chiudere e poi tornare a rimbalzare. Ok? Forse ho fatto un'analisi troppo prospettica rispetto al solito ma dovevo chiarirmi determinate cose perché darò priorità al tecnica 4 rispetto al tecnica 2 che comunque porta i suoi risultati ma adesso vogliamo lavorare più per tutti per dare la possibilità anche a chi lavora di fare un trade che può durare da tutta una giornata a parte della giornata ma soprattutto a salire fino anche a 3-5 giorni e quindi ho bisogno di vedere soprattutto in questo aumento proprio su gold che cosa hanno voglia di fare e se hanno voglia appunto di iniziare a scendere sotto prima questo minimo vincolando anche soltanto un terzo ciclo settimanale e potenzialmente anche un quarto se rimarremo lunedì ancora sopra questo minimo a ribasso e poi se andremo appunto sotto questo minimo che è fondamentale per iniziare a vedere un'inversione di oro una chiusura di ciclo annuale nei termini che ti ho raccontato se ti è piaciuta questa analisi e se sei incuriosito dall'analisi evoluta vai su analisi evoluta.com ricevi la guida gratuita e mi raccomando come di consueto per far crescere il canale metti un like iscriviti e condividi con gli amici che fanno trading ok ti ringrazio per il tuo tempo e ti auguro una splendida giornata